eccoci ragazzi buonasera anche questa sera un tg code edizione straordinaria perché sono uscite delle bombe dovete mettervi comodi su mv3 tornerà come era prevedibile sapere showtouse ma non è finita qui ne saprete delle belle nel nuovo tg code supportate subito un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi ma vi devo dare anche due comunicazioni importantissime come sapete ormai sono anni che collaboro con neba.com che mi dà tante volte codici sconto nuovi abbonamenti a prezzi vantaggiosi per la comune e quant'altro bene mi hanno messo a disposizione per tutto il primo e per tutto il 2 novembre in occasione del lancio di mv3 un 10 per cento esclusivo soltanto per voi di sconto su qualcosa o qualsiasi cosa comprerete su eneba trovate nel commento in rilievo il link del mio odio all'affiliazione che dovete utilizzare sempre per comprare e il codice sconto che amante 10 approfittatelo primo e quindi 1 e 2 novembre fino alla mezzanotte e due giorni che potrete shoppare tutto con il 10 per cento di sconto con il codice amante 10 approfittatelo e poi vi ricordo che il 2 di novembre saremo in live per portare in anteprima la campagna di mv3 quindi se ancora non avete fatto iscrivetevi sulla piattaforma viola per la live di giovedì che è importantissimo ma partiamo perché è uscito questo blog che va a riportare tantissime informazioni in anteprima su tutti i contenuti del lancio di mv3 ma anche su quello che accadrà a seguire mettetevi comodi con le modalità multiplayer al lancio quindi confermato il 3 contro 3 contro 3 che sarebbe la modalità tagliacola tra le modalità 6 contro 6 avremo team deathmatch quindi deathmatch a squadre dominio poi avremo cerchi e distruggi uccisione confermata tutti contro tutti hardpoint che è postazione controllo poi ci sarà la modalità guerra la modalità gioco delle armi la modalità anche 32 contro 32 che ovviamente grande guerra terrestre e sempre su guerra terrestre arriverà anche invasione che è una nuova modalità con una battaglia dove a quanto pare potremo combattere sempre contro le altre squadre e soprattutto ci sarà un mix di giocatori umani e personaggi quindi per bot dell'intelligenza artificiale altra cosa importantissimo tornerà alla modalità veterano quindi non nella tier 1 che abbiamo visto recentemente con mv2 e via dicendo tornerà al classico modalità veterano come la conosciamo noi con l'interfaccia utente limitato salute bassa al fuoco amico che appunto abilitato e altre modifiche al gameplay altra cosa molto importante il poligono di tiro arriverà e sarà presente sempre all'interno del multiplayer però nella sezione menu inoltre confermate la presenza delle partite private vediamo invece le mappe a lancio vi ricordo saranno 16 faranno parte tutte di modern warfare 2 2009 tutte rimasterizzate ovviamente afghan the roll estate alcune di queste le avete già giocate nella beta come ad esempio anche favela i rise invasion karaki cave poi rundown ovviamente rust avremo scripard e skydrow che avete visto anche durante la beta sub base anche qui con la tempesta di neve torna terminal con questa colorazione sull'azzurro sub base wasteland e ovviamente arriverà invece la prima diciamo così mappa per quanto riguarda guerra terrestre che arriva direttamente dal levin resort quindi per giocarla nella modalità 32 contro 32 sempre nella modalità 32 contro 32 tenete a conto invece la base militare di orlov qui potremo andare a ritrovare candone direttamente da code 4 e ci permetteranno queste e alcune mappe ovviamente di guerra terrestre di conoscere in anteprima urzikistan la nuova mappa di guerra di battle royale in arrivo a dicembre anche ad esempio pop of power che sarà appunto una mappa che fa parte dell'urzikistan sempre un altro pezzo di mappa anche qui avremo l'operazione spearhead sempre modalità guerra terrestre che ci permetterà di vedere come potete vedere la mappa su larga scala dell'urzikistan all'interno di un corridoio lineare all'intorno della base militare di orlov e del silo di karudin quindi molto interessante anche il fatto di giocare guerra terrestre oltre a zombie se per imparare in anteprima la nuova mappa di warzone ma sentite bene che cosa sta per accadere non soltanto al lancio perché già ve l'ho detto a seguire per aumentare ulteriormente una selezione già impressionante di mappe 6 contro 6 durante le varie stagioni arriveranno all'inizio quattro mappe core quindi 6 contro 6 che includono farm 18 mercato e show house che saranno disponibili poco dopo il lancio di mv3 in una playlist dedicata quindi torneranno alcune mappe del passato diciamo così del passato di mv2019 barra mv2 queste mappe sono graficamente identiche sono come sono apparsi in mv2 e a causa dell'innovazione del movement e le meccaniche di gioco presenti in mother warfare 3 potresti scoprire che si giocano in modo diverso quindi come dire vi rimettiamo delle mappe di mv2019 o di mv2 con la grafica che era appunto dell'epoca ma con il movement cambiato vi sembrerà qualcosa di completamente nuovo e io dico allora perché l'infinity world non ha cambiato il movement hanno lasciato appunto lagnarsi e lamentarsi la community senza portare nessuna notizia vi è un meglio novità vi ricordo come sempre questa cosa ragazzi delle mappe l'hanno voluta specificare sono additive nel senso ragazzi che sono in aggiunta alle 16 che troveremo al lancio quindi dopo le 16 al lancio ne troveremo già altre 4 poco dopo che fanno parte appunto di mercato farm 18 shot house e in più dopo queste ne arriveranno altre 3 nella season 1 quelle saranno altre mappe remastered quindi ci sarà già un pacchetto molto corposo di 23 mappe durante la season 1 molto interessante questa cosa vi ricordo come sempre che ovviamente come ad esempio le nuove modalità come taglia gola il 3 contro 3 contro 3 saranno giocabili soltanto su mappe ovviamente di mv3 non saranno giocabili sulle mappe di mv2 sempre per il discorso del carry forward quindi le cose di mv2 arrivano dentro mv3 ma le cose di mv3 non si applicano alle cose di mv2 come già vi ho confermato per gli accessori per le skin per le armi e per le mimetiche qui potete vedere alcune schermate per quanto riguarda gli operatori si parla di 25 operatori aggiuntivi all'interno di mv3 13 spec gru 12 della sezione cortac per rafforzare il pool di operatori che oltre a quelli di mv2 si arriverà a superare i 90 operatori tra cui potremo scegliere all'interno di mv2 barra mv3 ecco qui l'immagine in anteprima dei 25 operatori che troveremo all'interno di m e v3 e poi ovviamente qui ci sono tutte le sfide così vi potete fare direttamente lo screen per andarveli poi a sbloccare non appena sarà disponibile mv3 queste sono tutte le varie sfide che serviranno appunto per sbloccarle vi diranno quelle che sono disponibili al lancio quelle che serviranno appunto la sfida dedicata molto interessante questa cosa inoltre parlano di una cosa molto interessante relativamente al fatto che arriveranno nei prossimi giorni notizie relative al livellamento delle armi arriveranno notizie nei prossimi giorni per quanto riguarda la prestagione di mv3 che inizia ovviamente dal 10 di novembre e termina l'inizio di dicembre viene riportato qui nel blog vi ricordo come viene riportato direttamente all'interno del blog di call of duty che la stagione 6 ma soprattutto il battle pass della stagione 6 che continua con la pre season di mv3 fino all'inizio di dicembre sarà continuabile da sbloccare quindi se esce mv3 avete paura di non aver finito il battle pass della season 6 tranquilli lo potrete continuare a livellare almeno fino all'inizio di dicembre ve l'avevo detto che sarebbe stato un video molto importante con nuove chicche in anteprima su mv3 vi ricordo una cosa domani primo novembre ore 19 se ancora non avete non vi è partito il download parlo principalmente di battle.net mentre per tutti gli altri domani dalle ore 19 potrete scaricare la campagna in accesso anticipato alcuni mi hanno segnalato che su playstation oggi alcuni è partito il pre download della campagna che se potrà poi giocare il 2 di novembre alle ore 19 la potrete seguire live sul mio canale sulla piattaforma viola ricordatevi e segnatevi primo e 2 novembre codice sconto amante 10 per risparmiare il 10% su qualsiasi cosa dove comprare mv3 gift card approfittatene se dovete fare appunto per gli acquisti noi ci vediamo ad un prossimo video